questo vale un filmino però che carino che sei questo a vederlo era un po' difficoltoso, vieni a vedere un bel moretto guarda che roba ma che bello spettacolo spettacolare questo è un bosco operazione chirurgica eccomi la togli la piedra adesso no no ce l'ho il coltello ma voglio vederlo intero tieni un attimo dalla serie dobbiamo traslocare per prendere i funghi che gambo ragazzi sembra quando ti staccano un dente da lì guarda che gambo che è rimasto da sotto guarda che roba che è rimasto da sotto c'è mezzo chilo c'è porca vacca miseria via chiudere aspetta guardami bacetto dai bacetto ah c'è un'altra lì c'è gira di qua stai riprendendo? si guardalo qua questo non l'avrevo visto mi giuro aspetta ecco eccolo lì due due adesso e signori sono due chiudo? si oh ma facciamo morire quello strasso di Manuel Ducas questo merita un cortometraggio però non è? guarda che vieni anche questo merita un filmino mi sembra no? questo bel moretto scende la nebbia anche questo merita però eh oh la 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 pietra bello? bello 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 piove nel nostro proseguo pomeridiano guarda che bei mori che stanno venendo fuori eh bello eh ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti